Un albero come questo alle mie spalle ha evitato proprio ieri una vera tragedia, infatti erano le 13.05 quando un autobus della tua piena di pendolari che si recava da Pescara a Pianella qui in zona Caprara per evitare una macchina forse per un sorpasso azzardato è andata a finire contro questa pianta. È stata tutta la bravura dell'autista a far sì che proprio l'autobus con i suoi pendolari non finisse la propria corsa qui sotto nel dirupo, veramente un dirupo che poteva portare conseguenze molto più gravi. Il bilancio è di 22 feriti, 16 trasportati all'ospedale di Pescara, 6 in quello di Chieti, una, la ragazza più grave è una ragazza di Pianella, una 17enne che nella tarda serata di ieri ha subito l'operazione alle gambe. Per questo andiamo a sentire il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che ci aggiorna delle sue condizioni. Sì, io ho sentito poco fa i familiari con i quali siamo in contatto e la situazione è delicata e i medici stanno facendo tutto il possibile, la ragazza è già stata operata, attualmente si trova nel reparto di rianimazione e si seguono gli sviluppi, però sicuramente i danni riportati sono danni importanti e speriamo che i medici riescano a fare tutto quanto possibile. Ma sul mezzo pubblico non erano presenti solo ragazzi, anche pendolari che si recano tutti i giorni a Pescara per lavoro e una di queste, una signora di Pianella sempre, ha riportato la frattura del braccio. Andiamo a sentire la vicenda che è accaduta ieri su quel mezzo pubblico. Purtroppo sì, è stato tanto all'improvviso che non ci ho capito niente. Mi sono ritrovata per terra sentendo un rumore di un pezzo di legno ed era quell'albero che è entrato dentro l'auto. Poi ho visto, ho visto dopo, quando scendevo. È stato un momento invernale, va bene, è proprio una cosa da pazzi. Eravamo in salita, l'auto pieno, è stata una cosa disastrosa, è venuta l'ambulanza. Insomma, speriamo che non succeda più. E' una bravissima persona, una persona tranquilla. Secondo me si è trovato l'ostacolo davanti e non ha potuto fare altrimenti.